Sicuramente è una nuova versione, una nuova visione di Parco del Mare e questa idea di farlo digitale e quindi di abbracciare queste nuove tecnologie, secondo me sarà sicuramente un forte punto attrattivo e anche un progetto sperimentale molto interessante. C'è anche una platea di giovani oggi, pensa che proprio loro siano degli interlocutori privilegiati quando si parla di digitale? Sicuramente e probabilmente anche degli impiegati privilegiati di questo parco, speriamo.